Oggi è domenica 24 ottobre 2021 e per la prima volta la truppe di incontri con l'arte viene a fabbrica. Fabbrica è una frazione di meno di 1000 abitanti del comune di Pecciolico in provincia di Pisa. Siamo qua su segnalazione del pittore fiorentino Ghiribelli che è stato per tanti anni direttore artistico delle Giubbe Rosse poi si è trasferito sulla costa toscana e grazie a lui alla sua scoperta o riscoperta di un pittore scomparso dieci anni fa che rischiava ovviamente di essere dimenticato come succede a tantissimi artisti se non avesse pensato il fratello Fabrizio Ciulli che qui è al mio fianco a restaurare il suo studio dal quale vi sto parlando in questo momento a esporre tantissime opere che l'artista prematuramente scomparso nel 2011 ha realizzato in circa 40 anni di lavoro nel mondo dell'arte e oggi sono venuti qua per l'inaugurazione e l'apertura al pubblico di questa che si può già definire una casa della memoria una casa musea una piccola pinacoteca tanti personaggi fra i quali anche Renzo Macelloni sindaco del comune di Peccioli che abbiamo intervistato e la linea fra pochi minuti passando alla regia vi proporrà la intervista che ci ha rilasciato ma direi di iniziare da Fabrizio Ciulli fratello di Alessandro Ciulli l'artista del quale oggi parleremo perché proprio da questa stanza del suo studio che si affaccia sulla Valdera inizia un percorso vedete con le opere le prime opere quelle più acerbe che lui realizzò negli anni di frequentazione dell'istituto d'arte di Cascina poi ha frequentato l'università Pisa poi ha deciso di lasciare gli studi universitari per dedicarsi esclusivamente alla pittura quindi grazie al lavoro del fratello e della famiglia questo immobile che si trova incastonato nel centro storico di fabbrica è stato riportato a nuova vita e da oggi sarà aperto ai visitatori che vorranno venire a rivedere le opere per chi l'ha conosciuto o a scoprire questa vera e propria sorpresa lo ha dichiarato poco fa il sindaco nell'intervista che fra poco sentirete di un artista che da oggi può essere studiato anche dagli storici e dai critici dell'arte come ha detto Fabrizio io aiutato dalla mia famiglia ho pensato di raggruppare tutte le opere di mio fratello che mi ha lasciato e facendo una cronologia di questi quadri partendo da questo studio si parte da sulla mia destra un quadro del 68 fine arrivare a un'altra sala che gli anni 90 e ancora un'altra sala che saranno gli anni 2000 allestendola e sperando che qualcuno voglia venire a vedere questi quadri ovviamente il sindaco poco fa di fronte al pubblico si è impegnato a inserire a valorizzare questa casa inserirla nel circuito che porta i visitatori che vengono in Valdera a visitare le città e soprattutto i piccoli musei le sculture che sono disseminate soprattutto nel territorio di Peccioli e quindi penso ci siano le prospettive rose per poter aprire in maniera continuativa questa casa però per chi volesse nel frattempo venire a visitarla diamo dei suggerimenti magari un contatto telefonico allora per chi volesse venire a visitare questa casa basta inviare un email a fabri e a anto chiocciolattiscali.it Renzo Macelloni sindaco di Peccioli non poteva mancare all'apertura di questa casa museo che restituisce un logo storico del centro di fabbrica alla collettività ma soprattutto consente di scoprire o riscoprire per chi l'ha conosciuto un artista che ha rappresentato una vera e propria risorsa del territorio perché le sue opere con una chiave di lettura moderna interpretano proprio quello che dalle finestre di questo studio l'artista vedeva ogni giorno quindi una casa della memoria da tutelare, da valorizzare soprattutto da inserire in un circuito per i tanti turisti che vengono a visitare la Valdera in un circuito che consenta di venire a visitarlo anche ai turisti non solo italiani ma quelli anche provenienti da ogni parte del mondo perché questo linguaggio artistico è molto moderno è molto internazionale quindi sicuramente sarà una bella scoperta, una bella sorpresa per quanti verranno a visitare questa casa museo Intanto c'è un primo fatto importante che la famiglia ha rimesso in piedi, ha ristrutturato questo appartamento ha ristrutturato fuori tutte le opere del Ciulli che ovviamente ha lavorato per tantissimi anni come un attore vero, come un artista vero, un artista che ci ha creduto fin da sempre le prime opere le ha fatte quando era bambino, di fatto è ora, fino ad oggi, fino all'ultimo momento che è molto, quindi ha sempre... ed è ovviamente come molti artisti quindi una persona radicata al territorio, una persona schiva, una persona imprevedibile appunto il taglio di un artista La cosa importante è che se la famiglia ovviamente mantiene questo intento noi siamo ben lieti di inserire questa casa museo quindi creare le condizioni perché stia veramente nel percorso che noi facciamo di scoperta del territorio e come è noto noi siamo in questa fase, un momento abbastanza importante come Comune perché siamo presenti a Venezia alla Biennale di Architettura come al centro del Padiglione d'Italia questo ci ha portato molta notorietà, molta disposizione Ovviamente la casa è nel punto più importante di fabbrica, nel punto più alto quindi c'è un panorama incredibile quindi la casa di per sé è un elemento di pregio ed ovviamente se riusciamo a dare una lettura più chiara, più lineare in modo che il turista, quindi in qualche modo, possa apprendere fino a un fondo il messaggio di quest'artista è ovviamente quello che vorremmo fare se la famiglia rimane di questo intento sicuramente noi gli daremo una mano perché è nell'interesse collettivo di rafforzare questa cosa Brando Barsottini è il giovanissimo vicepresidente di una giovanissima proloco di fabbrica infatti siete tutti più o meno trentenni e cosa fate per questa frazione del Comune di Peccio? Proprio in merito a Alessandro Sciulli diciamo che in una delle nostre feste che organizziamo abbiamo preso ispirazione da Alessandro infatti la festa si chiama fabbrica Art & Food perché proprio abbiamo messo nel mezzo a questa festa che dovrebbe essere semplicemente un modo per far rivivere il paese e anche l'arte aprendo la casa facendo concorsi di pittura e fotografia dedicati proprio a Alessandro Voi collaborerete con la famiglia perché questa casa sia visitata il più possibile aprendola soprattutto in occasione delle vostre manifestazioni Certo, certo quando facciamo manifestazioni che sappiamo porteranno persone qui nel borgo apriamo sempre la casa insieme a Fabrizio e Massimo e cerchiamo di dare un percorso in modo che la gente venga e visita Allora Brando suggeriamo ai nostri telespettatori di andare a visitare la vostra pagina Facebook come un sito dove potranno trovare informazioni sulle prossime manifestazioni così potrebbero chi è interessato cogliere l'occasione per venire a Fabrizio e venire a visitare la casa museo di Alessandro Sciulli Certamente Allora ricordiamo la vostra pagina Su Instagram è prologo Fabrizio e è uguale su Facebook Molto semplice Massimo Guidi è amico fin dall'infanzia sia di Fabrizio sia di Alessandro Sciulli ha scritto anche per Alessandro dei testi biografici e critici quindi vorremmo che inquadrasse questa figura artistica anche umana perché tu l'hai conosciuto anche personalmente l'hai visto crescere, l'hai visto diventare artista e purtroppo l'hai visto anche scomparire dieci anni fa Con Alessandro abbiamo passato fin dai primi anni dell'infanzia e poi dell'adolescenza degli anni giocosi, felici fino a quando abbiamo capito che nel mondo, specialmente dalle parti dell'America c'erano i cosiddetti nativi americani, gli indiani che combattevano contro gli invasori purtroppo europei e a noi non andava bene questa storia vedevamo dei film di cowboy che erano gli eroi e i nativi che succombevano erano i servaggi Alessandro esprimeva questo stato d'animo inizialmente vestendosi da indiano per carnevale colorandosi il viso con i colori come di chi avesse sotterrato l'ascia di guerra e girando in modo teatrale per il paese e questo atteggiamento che oltretutto aveva costruito anche una tenda in un bosco gli valse l'appellativo di tenda e tenda se lo è portato fino all'ultimo giorno della sua vita infatti quando è scomparso non è scomparso Alessandro Sciulli ma è scomparso Tenda amico degli indiani ma in quel periodo la Rai trasmetteva un solo canale e ci dava da mangiare quello che voleva poi è subentrato il 68 allora nel 68 Alessandro non solo, fino agli anni 70 ha espresso questo stato d'animo della società questo disagio personale sulle tele e lo ha espresso in modo aggressivo con getti di colore si può dire e con scritte una in particolare che campeggia in una tela dove è scritto LSD The Last Hope cioè l'ultima speranza poi passati gli anni turbolenti fino alla fine degli anni 70 è iniziato un percorso nuovo di Alessandro il quale ha deciso diciamo di visitare di frequentare più che altro il monastero buddista di Pomaia e lì si è alimentato di una meditazione e di qualcosa di più controllabile a livello emotivo e lo ha espresso di nuovo nelle tele e nelle tele si possono intravedere oltre alla parte surrealistica dominante di tutto il suo lavoro e della vita anche la parte paesaggistica e urbana se vogliamo dire anche di certi ambienti della Valdera e quindi questa meditazione ha contribuito rimanendo in tema di monaci a fare un lavoro più certosino e come è stato definito anche da esperti qui è venuto Sgarbi una notte del 2016 a visitare questo ambiente e ha visto la precisione di questi quadri e tutti abbiamo detto un po' la stessa cosa io in più ho espresso un parere su questo tipo di pittura che vedeva i colori della valle dalle sue finestre di casa vedute dei borghi dalla parte sinistra del fiume Era eccezionali da Volterra fino allo sfondo del Monte Serra i borghi di Montecatini Laiatico, Orciatico, Rivalto Chianni e Terricciola e Alessandro ha espresso questi colori e queste visioni sulle sue tele grazie anche a questo fattore diciamo contemplativo che è riuscito a avere negli ultimi anni della sua vita e questa pittura io l'ho definita in primis a Sgarbi nel 2016 e pittura clorofilliana ecco questo termine ha suscitato un po' di stupore diciamo anche perché non era mai uscito ecco dalla bocca di qualcuno questo tipo di pittura si parla sempre di surrealismo, metafisica invece Alessandro ha usato i colori della Valdera per parlarci ecco di quello che vedeva e di quello che sentiva soprattutto e poi nei ritagli di tempo è riuscito a fare anche centinaia dico centinaia di opere si possono definire grafica ma non è grafica sono opere d'arte firmate nei ritagli di tempo fra una terra e l'altra ecco Alessandro Tenda ci ha lasciato nel 2011 con un mare di opere io non so quanti artisti hanno prodotto lui per 40 anni e passa lo ha fatto tutta questa mole di lavoro ho iniziato delle memorie e un titolo di queste memorie e qui la chiudo è Alessandro Ciulli dalla tenda alla tela come è stato detto in apertura di servizio questa scoperta o riscoperta di Alessandro Ciulli la si deve soprattutto all'interessamento di Riccardo Gherivelli notissimo artista fiorentino che per tanti anni fino alla chiusura dello storico caffè letterario delle Giubberosse ha selezionato tanti artisti li ha fatti esporre alle Giubberosse ha chiamato i critici più importanti a presentare le loro mostre poi si è ritirato sulla costa toscana in una bellissima casa che si affaccia sul Martirreno e poi per i giri del mondo dell'arte è riuscito fra varie segnalazioni a venire a vedere queste opere e tu hai detto sono rimasto folgorato addirittura mi sono messo seduto su una sedia perché non credevo di trovarmi davanti alle opere di un artista di queste dimensioni niente in questo paese a fabbrica siamo capitate un giorno una domenica dove c'erano delle manifestazioni e c'erano delle mostre e quindi ci siamo incontrati qua no sulle opere di questo artista cavolo non è facile esprimersi sinceramente perché perché veramente è una follia cioè non si può dare le giudizie assolutamente ma ammirarle e basta entrare dentro ad ogni opera e rimanere veramente folgorati grazie a chi ci ha ospitato con questo c'è una cosa splendida cioè è incredibile è veramente un artista un artista è peccato che non l'abbiamo visto prima insomma ecco una mostra alle giubbe rosse gliela farei volentieri si parta subito subito va bene speriamo tutti noi che le giubbe rosse riaprano quanto prima e speriamo di poter tornare a vedere delle bellissime mostre come quelle che ci ha regalato nel periodo in cui è stato direttore artistico Riccardo Gribelli